Niente giustizia, niente pace, è lo slogan che negli anni ha segnato le proteste dei neri americani e fa impressione sentirlo ripetere nell'America di Barack Obama. Eppure ieri notte davanti al tribunale di Sanford in Florida si è andati molto vicino ad un'altra rivolta, tutto per queste parole. Signor Zimmerman, lei non ha nulla più a che vedere con questa corte, è un uomo libero. George Zimmerman il 26 febbraio del 2012 si è sentito minacciato da questo ragazzo Traivon Martin, un minorenne di colore, solo perché nella notte e sotto la pioggia portava un cappuccio ed aveva in mano un sacchetto nel quale all'interno, peraltro, aveva un tè freddo e delle caramelle. Un nero sospetto aveva comunicato alla polizia il vigilante Zimmerman a capo di un gruppo volontario per proteggere, armi alla mano, la comunità dei Twin Lakes. Piuttosto che lasciarlo tornare a casa dai suoi genitori, Zimmerman ha pensato di pararsi davanti al ragazzo con il cappuccio e di affrontarlo. Quello che è accaduto in quei pochi minuti non è chiaro, Martin avrebbe provato a scappare da quell'uomo armato. C'è stata sicuramente una colluttazione, l'unica certezza è che a soli 17 anni Trayvon Martin è stato assassinato. Il vigilante se li ha sparato. Il processo ha diviso l'America nella vicenda ha intervenuto persino Barack Obama con una frase di grande impatto emotivo se avessi un figlio sarebbe Trayvon. Eppure la giuria ha giudicato Zimmerman non colpevole di omicidio di secondo grado dove la pena arriva fino all'ergastolo. Il punto è che non si può gridare allo scandalo. Nei processi si applica la legge e la legge negli Stati Uniti consente non solo di portare armi ma permette a gruppi di cittadini di riunirsi ed atteggiarsi a vigilantes. Lo ha ripetuto anche una sentenza della Corte Suprema per la quale il diritto di portare armi è collettivo. Soprattutto in Florida una legge voluta da Jeb Bush, ex governatore ed adottata da altri 20 Stati, consente l'uso letale della forza in caso di minaccia solo percepita. Tradotto si può uccidere qualcuno che a nostro modo di vedere è un pericolo. La famiglia di Trayvon Martin non era in aula al momento del verdetto. Sapeva bene a cosa andava incontro.